Il segreto Il segreto, arriva Lucia, lamica di Camila porta con sé un nuovo mistero Anticipazioni Il segreto, Lucia arriva a Puente Viegio, Camila e Beatriz entusiaste. Stando alle anticipazioni del segreto, arriva a Puente Viegio Lucia. Stiamo parlando della misteriosa amica di Camila. Abbiamo visto, più volte, la Valdesa alce scrivere delle lettere ad una sua carissima confidente. Ora questultima è pronta ad approdare nella trama della SOP spagnola. La moglie di Ernando appare felice di accogliere la sua amica in casa sua. Anche Beatriz è entusiasta dell'arrivo della donna. La giovane Dos Casas non vede l'ora di conoscere la nuova arrivata. La cubana si presenta con molta simpatia di fronte a Camila e Beatriz. La donna ammette di essere entrata dalla cucina, poiché non trovava altre entrate. . Lucia appare subito come una donna stravagante e piena di vita. Sappiamo già dalle anticipazioni che la donna riesce a portare nelle vite dei Dos Casas diversi colpi di scena. . Ernando non è presente durante l'arrivo di Lucia, ma a fare la sua conoscenza ci pensa Nicolà. . Il fotografo rimane colpito dalla bellezza della giovane cubana. Ma non è tutto oro quel che luccica. . . Il segreto anticipazioni, Lucia protagonista di un inquietente mistero. . Lucia porta con sé a Puente Viejo un inquietante segreto. Ormai siamo abituati a vedere giungere nella piccola cittadina spagnola nuovi personaggi con dei grandi misteri. . Anche la cubana dimostra di essere una di loro. . Infatti, ben presto, i telespettatori vedranno Lucia iniziare ad indagare sul legame che unisce Ernando e Camila. . Il suo arrivo a casa Dos Casas ha uno scopo ben preciso. . La Valdesa Alce, ignara delle reali intenzioni della sua amica, è contenta di averla al suo fianco, in questo periodo così difficile. . Con il trascorrere dei giorni, Lucia fa la conoscenza di Ernando e inizia a dimostrarsi fortemente ossessionata da lui. . Il segreto, Lucia entra nelle vite della famiglia Dos Casas. . Lucia è sicuramente un personaggio tutto a scoprire. . La donna non è realmente amica di Camila. . Infatti, il suo scopo è proprio quello di farle del male. . . Intanto, sappiamo che la Valdesa Alci decide di non rivelare a Lucia di aver ucciso Neistor, il quale potrebbe essere il punto chiave di questa nuova storia. .